Torna anche quest'anno alla mostra d'oltremare il consueto appuntamento con la Fiera della Casa, manifestazione dedicata ad arredo, design, cibo e artigianato, in programma dal 29 giugno all'8 luglio. L'evento, presentato questa mattina in Sala Giunta, anche quest'anno è ad ingresso gratuito e si arricchisce di numerose iniziative dedicate ai più piccoli. Durante i weekend sarà allestito un campus della salute per ragazzi fino a 18 anni, con la partecipazione di medici e volontari pronti ad offrire visite gratuite e informazioni, diverse le aree dedicate allo sport e alla prevenzione ed i momenti di spettacolo e intrattenimento. L'attenzione comunque che deve esserci all'interno della Fiera della Casa, che non sono soltanto aziende che spongono oggetti per la casa, ma anche food, anche sociale e anche animali, perché quest'anno abbiamo in più anche la presenza della ASL che verrà e ci aiuterà e aiuterà i cittadini e chi volesse adottare un cane a poterlo microcippare direttamente all'interno della Fiera della Casa. E poi ultima cosa che ci tengo particolarmente, noi l'anno scorso lanciammo un contest dove chiedemmo alle persone, quindi alla città, ma anche non alla città, perché sui social il bacino d'utenza è particolarmente ampio, di segnalarci quelle che potevano essere delle musiche sulle quali volevano far vedere la Fontana delle Sede Danzare. Per cui per questa Fiera della Casa partiranno anche due nuovi spettacoli di musiche nuove che vedranno la nostra bellissima Fontana comunque arricchire questo bellissimo evento che è storico della città di Napoli. Il 30 giugno ci sarà un raduno di meravigliosi ludobus che verranno da tutta Italia all'interno del Mostro d'Oltremare durante la Fiera della Casa e che daranno la possibilità a tantissimi bambini, non soltanto ai bambini ma anche agli adulti, di giocare, di sperimentare anche nuove forme di gioco, a volte anche molto complicati, perché i giochi a volte sono complicati ma danno grandi opportunità per stabilire relazioni, per crescere, per conoscersi e quindi anche per fare una cosa che per noi è molto importante che è la prevenzione. È una Fiera che dimostra nonostante l'età di sapersi rinnovare ogni anno sempre con maggiori proposte ed è una Fiera diciamo così vulcanica come vulcanica questa città, bella, articolata, offerta per tutte le generazioni, per tutte le età e soprattutto un avvenimento qualificato e di grande accoglienza. Benvenuta a Fiera della Casa in una città che sta conoscendo uno sviluppo turistico ed economico davvero particolarmente rilevante.